Da una dubbia iscrizione ad una vera e propria presa di posizione, l'anno prossimo l'eclanese del patron casale sarà protagonista del campionato di eccellenza. Nella giornata di ieri infatti il sodalizio di Mirabelle Clano ha ufficializzato i primi due acquisti. Si tratta del portiere classe 1983 Giuseppe della Corte proveniente dal Villa Literno, ma con un'esperienza notevole anche nel calcio professionistico. In passato della Corte ha infatti indossato anche le maglie di Gladiator, Juve, Stabbia e Potenza. Non è stato soltanto l'acquisto dell'estremo difensore partenopeo a destare Scalpura nella giornata di ieri. Si è legato alla società gialloblu anche l'attaccante Gian Mario Palumbo, classe 1983 proveniente dal Sessana, formazione che nell'ultima stagione ha disputato il campionato di eccellenza nel girone A. Palumbo si è messo in luce realizzando ben 15 reti, un'incursione sul mercato degna di nota, quella del padron Casale che è sempre più vicino a strappare il sì a Pino Guardabascio che ha dato il suo addio all'HD ed è pronto a ritornare ad indossare la maglia gialloblu.